Gaetano Grillo ha ritirato la sua candidatura da primo cittadino per le prossime elezioni amministrative a Crotone. Ha detto non ci sono le condizioni affinché io possa essere il rappresentante di quella parte del Partito Democratico. Perché non si sono verificate le condizioni? Perché possa partecipare al ballottaggio. Non volevo il simbolo, l'hanno spacciato che fosse per il PD e quindi sì. Il simbolo è bene o non male, è produttivo di voti, di per sé, quindi incrementava il patrimonio per essere eletto. Due giorni fa io ebbe a dire a Vallone che se avevano 15-20 candidati la differenza gliel'avrei messa a disposizione io per integrare. Io avevo una lista modestamente di 3.500 voti, con un'altra lista di 1.500-2.000 voti già si partiva con una base di 18-20%. Quindi me la giocavo io sul valore aggiunto tra i sindaci, io ritengo di avere avuto la possibilità di convincere più gli anni. Dopo questa ritirata quale sarà la sua posizione? La mia posizione è agnostica per certi aspetti perché ho detto che se uno dei tre o dei quattro sindaci fosse stato all'altezza io non sarei sceso in campo. Poiché non li ritengo nessuno all'altezza della grave crisi della città io non voto nessuno dei quattro sindaci. Lei ha fatto una battuta sull'età e sulla gioventù. Che cos'è la gioventù? La gioventù, l'ho detto, la gioventù dura poco, ma non in senso spregiativo. Col passare degli anni ci si invecchia. La gioventù naturalmente porta energia, però non porta certamente esperienza e competenza. Quella te la porta solo l'anzianità. Ora, bisogna essere giovani nell'intelletto perché fare il sindaco non significa che fare 100 metri fu un'attività sportiva. Significa che esercitare la mente. Io ritengo di essere una persona che ha una intelligenza media, ma reattiva, molto fluida, rispetto ad altri giovani che li trovo non adeguatamente intelligenti. Poi, parliamoci chiaro, i giovani che dovrebbero essere rivoluzionari e giacobini, per una certa parte sì, per altri invece sono più furbi degli anziani perché trovano il potente di turno e si accadrano, seguono la scia. Mi spiego? Ha detto che non voterà nessuno dei tre, ma chi vede preferito? Nessuno dei tre lo ritenga all'altezza. Io fossi stato in loro non mi sarei candidato perché avrei detto che fare il sindaco presuppone questo, io non mi sento all'altezza.